Buongiorno a tutti e benvenuti a 3 minuti coerete. Come sapete ieri è finita una seduta consigliare molto lunga, molto importante e che ha visto l'approvazione dell'assestamento di bilancio. Rispetto a uno dei primi articoli, che era quello riferito a cassa, crediamo che quello che si è andato ad approvare, di andare a cercare di limitare quel buco presente nel bilancio dovuto alle svalutazioni del 2016, sia una necessità non più rinviabile. Per questo il Consiglio Grande Generale ha dato un mandato forte al nuovo CDA che fra l'altro si è insediato in questi giorni e facciamo i nostri più grossi bocca al lupo rispetto ai nuovi membri, Carlo Alberto Giusti che sarà il nuovo Presidente, Gianfranco Vento il nuovo amministratore delegato e gli altri membri del CDA Vincent Cecchetti, Serena Latore e Stefano Bizzocchi. Loro spetterà un compito gravoso che è quello di rilanciare questa cassa di risparmio cercando di riportarla nel medio e breve periodo a un pareggio di bilancio. Quindi noi abbiamo proposto come maggioranza, come governo, di andare a incidere soprattutto per quello che riguarda la cartolarizzazione del 5-3, quindi sostituire questo buco con un titolo, comunque con qualcosa di fruttifero, che possa portare il bilancio di cassa nel breve periodo a pareggio. Quindi io credo che ci siano tutte le competenze necessarie per risollevare questa banca e auguriamo, insomma, formuliamo loro i nostri migliori auguri perché, insomma, possano fare un lavoro proficuo e sereno. Ecco, credo che un intervento su cassa di risparmio non sia più rimandabile, soprattutto anche rispetto alla gestione del gruppo Delta. Oggi Delta ancora, in questi mesi, insomma, perde quasi 5 milioni di euro all'anno. La partita Delta non è stata gestita negli ultimi anni. Credo che il nuovo CTA debba anche intervenire su tutto quello che è la chiusura dell'accordo di ristrutturazione del gruppo Delta e soprattutto andare a vincere il processo di Bologna dove la cassa aveva pagato una sanzione di 60 milioni che se si vince in questo processo possono ritornare. Quindi ci sono tutta una serie di partite da risolvere. Il nuovo CTA si è insediato. Noi abbiamo piena fiducia in loro e ci auguriamo, insomma, che nel giro di breve cassa possa ritornare agli antichi splendori. e voglio ricordare che questa sera ci sarà la Post Consiglio alle ore 21 sotto le loggie di Borgo. Tratteremo tutti questi argomenti, quindi vi invitiamo a partecipare, tutti gli argomenti relativi al Consiglio. Ci sarà anche la presenza del nostro Segretario di Stato della Sanità, Roberto Ciavatta, quindi venite a trovarci per formulare tutte le domande, tutti i dubbi. Riprendiamo dopo un periodo, purtroppo, del Covid che ci ha costretto a non poter ritornare tra la gente, ma da stasera ricominciamo per soddisfare tutte le vostre domande. Ci vediamo stasera. Buona giornata a tutti.